Ciao a tutti e benvenuti in questo prossimo episodio di Metro Queens Survival Nello scorso episodio abbiamo esplorato ancora per trovare le cose che ci servono Ovvero la fine della mappa Nel senso che per fine della mappa devo sparare tutti i cubi Perchè ho bisogno di oro, di minerali, di uccidere quella bestia bastarda che spero non riesca a colpirmi Ho paura Ok no, non vado decisamente in quella direzione Mi sa che mi converrebbe... Tornare a casa? Torno a casa? Ho del legno? Posso prendere del legno qua? Posso fare una mini base qua? Potrei aspettare il giorno Aspetto il giorno Perfetto, è giorno, c'è solo un problema Lo scheletro non se ne va Quindi ho pensato di agire in questo modo Saliamo qua sopra Per tornare a quel simpaticissimo posto Ce la faccio da qua? Devo spaccare un po' di roba ma si ce la faccio Sempre la sicurezza piena di tutto Boom boom Ok, prendo del legno E... Mi faccio una pala Lo so che sembra esagerata come cosa Ma fidatevi che quello scheletro C'è mi butta giù Mi butta giù tranquillamente Perchè... Quanto lontano è? Sono 15 blocchi? 20 al massimo Ce la fa tranquillamente A buttarmi giù da lì E farmi fare Una fine non molto piacevole Quindi investiamo decisamente in una pala Con la quale Posso andare a prendermi Ehm... Della neve E con la quale A sua volta Potremo cacciare Quel cazzone Dalla Bastano poche palle di neve in realtà Ecco Gli ho preso un bordello Meglio Perchè come vedete Funzionano Come delle frecce C'è Non fanno danno Ok Però allontano i mob E quindi ci è utile Come cosa Scendere acqua Buttati nell'acqua pure Fai quel cazzo che vuoi Perfetto Ne ho per di qua Boom Visto? Ma ci vorrà un po' Un po' di colpi ripetuti Ok Ed è così ragazzi Che si fa i pro player Su minecraft Che ne dite? Comunque come vedete Ho creato un ponte da quel cubo A questo cubo E ho scoperto una cosa interessante Guarda qui C'è un dungeon C'è un bel dungeon Con dentro Delle robe C'è anche una scala Quindi probabilmente Se vado dall'alto E' solo una convenienza Per me Perchè posso trovare Magari il secondo piano Al cui interno Probabilmente c'è una cesta E robe di questo tipo Quindi Allora Molto molto Tranquillamente Me ne salgo così Ecco vai Sali un altro po' Ci sono Uh Notte in flash Non mi lamento perchè è l'unica fonte di cibo come si deve che ho Uuuu Non sprechiamo il fatto che non mi ha abelenato Ok Allora Schaviamo un po' Giusto un pochino Qui c'è qui Qualche creeper Un ragno Nessun creeper C'è uno spawner di scheletri Ok niente di che Buongiorno signore Buongiorno signore Mi piacerebbe tantissimo ucciderla C'è solo un problema Dovrei scendere dal lato Guarda che culo C'è proprio il muro del dungeon Che posso usare Non mi colpire Sai che forse è un bene È un bene È un bene È un bene Perfetto Muori Una torcina così Muaaaaa Cagno bastardo cosa volevi Lasciami distruggere lo spawner prima che spawni qualcun altro Ok C'è un envil È un'altra working table In effetti Avrei potuto evitare di craftarla prima Sapevo che era qua Vabbè scialazzi ci sta Comunque Non c'è niente di utile qui Mi prendi Sono al serio Error 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 È fatto apposta per non farmi entrare dal lato Ok no qua no Perfetto Però Posso comunque andare a prendere l'oro Perché qua sopra c'è oro Là sotto c'è oro Ok Ok è la mia fonte di oro sta roba E poi vabbè anche di materiali Perché con questo è un bricks Sono dei bei blocchi E mi evito di cuocere la cobblestone Per farla stomp e poi Tramutarla In ciò che serve a me Allora Vado a prendere tutto l'oro da qui E poi Analizziamo un po' il da farsi Noi abbiamo ancora Uno, due Due cubi da esplorare Di quelli grandi E abbastanza di quelli piccolini Quindi Siamo abbastanza vicini Diciamo alla fine dell'esplorazione Ehm Per quanto mi riguarda Poi Ovviamente andrò a vedere anche Questi qua piccolini Nella speranza che ci sia uno spawner Non lo so Di Mucche Maiali Qualcosa di non troppo aggressivo Perfavore Così posso farmi una bella Farm di cibo Senza rompere i cabbasesi Da quegli scheletrucci Che mi stanno molto molto simpatici Non è vero Non mi stanno simpatici Ma è una rottura Farm di scheletri Lo sapete meglio di me Se giocare a minecraft E quindi va buo Allora Un dance Allora Un dance Allora Esatto Allora Possiamo uscire direttamente da qua E cercare di andare Uh smeraldi C'è solo un problema Per trovare L'oro Qua è un casino Io non so se ho i miei 70 passapezzi Quello che so E' che come ne ho altri 23 Quindi piacerebbe tantissimo Anche tornare un attimino a casa Io non sono mai stato lì in effetti Quindi ci mancano 3 di blocchi 1,2,3 Potrei buttarmila qua No Pericoloso Pericolosissimo Surreal Non fare pazzie Ok? Ok Allora possiamo andare direttamente a questo cubetto qui Anche se sento già degli zombie Quindi Sento ragni Zombie Posso immaginare Diciamo Diciamo così Sto dietro sempre mamma mia Posso farmi del Oh sì che posso farmi delle torce Vai Comodissimo Anzi ne posso far di più Allora Avanti Più torce ci sono meglio Eh Cos'è? Spone di ragni Non sono interessato Per niente Lì è che piazza sto Secchio d'acqua Ok nella speranza che non ci sia un creeper Ahia Uccido Ok non ci sono creeper Ma mi hanno avvelenato Non buona come cosa eh Sali 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 Merda no No il bug No il bug Uccidi questi Prima che mi uccidino a me Veloce Uh C'era il bug del veleno Non so se lo conoscete ma il bug del veleno è una cosa che consiste in ciò Se tu stai sott'acqua E sei avvelenato subisci danno in continuazione Ok Bene Subendo danno Non riesce a salire Ok Mi fa Eh Se non sbaglio è una cosa che avevano risolto però A quanto pare non è così Ok Ok Shalla Sono ancora vivo Questa è l'importante Perfetto Ah Un mini villaggio Interessante Ah ci sono anche delle carote probabilmente Ah Questa è una cosa bella 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 Però quasi quasi andrei prima Al Cosa della sabbia Non so mi sembra più interessante Il problema è che ho poca vita Ma ho già stato rotto in flash e recupero la vita Grazie zi Grazie mille Ok Ora visto che ho poca vita non mi posso buttare Quindi semplicemente userò l'acqua per aiutarmi in questo compito Faccio pum 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 E pum Ce l'ho abbastanza Ah Ecco Cosa vi dicevo Non ho abbastanza vita Eppure lo faccio lo stesso Sono scemo? No Sono surreale Se Allora c'è una cosa di questo tipo Creo la scala Inziando così e poi vado Ma Voglio proprio morire Surreal Vuoi proprio morire Mamma mia come ne sei surre Allora Calma e sangue freddo Stavo dicendo faccio così Poi levo i blocchi così Evito Gli sprechi Che non piacciono a nessuno Soprattutto quando hai pochi blocchi Ok Così posso tornare su Ce la faccio? Minca Davvero pochi blocchi com'è Usiamo un po' di terra Facciamo così Ehm Tempo di Gobleston Boom 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 Ecco qua E spè Giustamente le torce ci stanno sempre Ti metti qua poi di notte Spawn al macello più totale Non è che mi interessi molto come cosa E anche qua dentro Anzi qua chiudiamolo proprio Molto bene Ok Allora possiamo andare a esplorare questa zona Aspetta fammi recuperare la vita Perfetto direi che per recuperare la vita ci metterò un pochino Perchè ho solo 10 flash a disposizione E comunque noi ci vediamo nel prossimo episodio Vi ringrazio tantissimo per la visione Vi ricordo di lasciare mi piace se vi è piaciuto questo episodio Ci mancano esplorare questo Quello E quello Anche la vedo un dungeon con della mossi cobblestone Qui probabilmente c'è qualcosa di particolare Qui vedo delle teste di creeper Non è che mi spieghi tantissimo Però ho voluto fare questo lo stesso per primo Non so perchè Vi ringrazio tantissimo per la visione Ciao a tutti a tutti